Questo è il pacco che mi è arrivato, apriamo la scatola e vediamo che si presenta tutto molto bene. Come possiamo vedere gli utensili sono tutti imballati e adesso andiamo a togliere l'imballaggio e a mettere ad ognuno il suo inserto. Bene, ecco qui i nostri utensili con gli inserti montati e partendo da sinistra abbiamo tre utensili per l'esterno, un troncatore, un filettatore esterno, un filettatore interno ed un bareno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, che dire, un ottimo risultato, gli utensili lavorano bene e sono molto soddisfatto. Ringrazio nuovamente Banggood per avermi fatto scegliere questo prodotto dal suo catalogo, che consiglio a tutti. Anni interessati lascio il link in descrizione. Con questo è tutto, spero che il video vi sia tornato utile, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui video futuri e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!